Comunque qua siamo in un posto chiamato? Lungavilla. Lungavilla. Parco Palustre, ok. E qui c'è la Lizzi, l'alba e la Mela. È un riparo per le cagnoline. Eh sì. Vai Mela. No, no, c'è le zecche, magari esce a stare. Ma che belli, tutti e tre, insieme. Ah, il ciliegio. Eh, infatti in fiore, guarda. Bellissimo. Oh, basta che non ti butti in acqua. Qua. Su. Guarda quei fiori. Che bello. Grazie. 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 Madonna, che mosse di arti marziali. Guardate, questo è per fare... per guardare gli uccelli. Ti metti qua e fai il guardone. Vedete, hanno fatto un intervento di forestazione degli anni 80. Anzi, nel 1989. Pensate voi. Quanto è anni 80 questo parco. Adesso facciamo un giro ad anello. Cioè, giriamo di qua e torniamo verso la macchina. Adesso che laggiù puoi pescare. Puoi andare là in mezzo e pescare in mezzo al lago. Quindi qua c'è un altro percorso. Sono tantissimi. Adesso stiamo facendo un giro molto rilassato, tranquillo. Magari dal video non si capisce niente, però il posto è veramente molto, molto grande. Ecco questo. Credo che sia uno dei laggi principali. Non c'è nessuno che pesca oggi però. Magari dal video non si capisce. Grazie a tutti.